buonasera buonasera a tutti dal professore di vita dalla voce di chi non ha voce oggi ho letto una discussione in una sezione commenti in cui si contrapponeva il male della società con il malessere del singolo si contrapponeva la società e le sue distorsioni alla sofferenza del singolo e veniva detto un qualcosa di questo tipo da un utente ma in realtà un singolo che sta male in questo nostro mondo non dovrebbe andare dallo psicologo perché in un mondo malato in una società tossica e malata il problema è la società non il singolo individuo quindi è la società che dovrebbe cambiare di conseguenza l'individuo starebbe meno male quindi assolutamente no l'individuo non deve andare dallo psicologo perché la società malata ora cosa ne penso di questa visione secondo me è sbagliata perché io sono il primo a dire che viviamo in un mondo malato che è una società affetta da una psicopatologia collettiva in vari aspetti questa nostra società è folle non tutto è negativo sono cose esaltabili assolutamente della nostra società e non vanno dimenticate ma il fatto che ci siano delle cose esaltabili della nostra società e quindi viviamo in un tempo oggi 2024 molto migliore per vari aspetti rispetto a anche solo 100 anni fa il fatto che sia vero ed è vero molto meglio per molti aspetti non significa che non ci siano delle cose invece assolutamente tossiche che fanno del male poi ai singoli individui che compongono la società e di conseguenza essendo cose tossiche gli individui possono ammalarsi possono soffrirne per via di quella società però faccio un esempio molto banale se viviamo in un mondo in cui per via dell'allienazione per via pensiamo all'italia si parla spesso di non c'è non c'è futuro per i giovani ne parla spesso galimberti una volta il tempo futuro è una promessa e quindi questa promessa di un futuro roseo diciamo retroagiva anche nel presente oggigiorno questo futuro è nero e questo futuro nero retroagisce negativamente anche nel presente un tempo appena si usciva da scuola si trovava un lavoro la pensione era assicurata apriamo anche di questioni molto terra terra bene se uno per via di queste cose ad esempio e tante altre ha delle forti inquietudini e quindi preferisce anestetizzarsi con la droga e con l'alcol e quindi finisce immerso in delle dipendenze in realtà non è lui che deve andare dallo psicologo per riuscire a guarire dalla sua dipendenza dal suo malessere è la società che dovrebbe cambiare perché lui sta male è finito nella droga a causa di una società che non non dà prospettive o che comunque fa male anche per tante altre motivazioni è un po' pericolosa questa mentalità perché se da un lato è doveroso denunciare i mali della nostra società e per me se ne sono anche di molto più grandi del semplice precarietà pensioni a rischio per quanto siano problemi io vedo dei mali molto più profondi se vogliamo se vogliamo apparentemente meno concreti ma in realtà più concreti proprio la dimenticanza di quello che è la persona con i suoi sentimenti un poco interesse per quello ma al di là di questa parentesi sebbene sia vero che la nostra società è assolutamente denunciabile per tanti aspetti questo non significa che se uno finisce per via di una società del genere a diventare tossico dipendente oppure finisca per andare in depressione anche senza dipendenze questo significa che lui abbia un malessere che necessiterebbe delle cure psicologiche o anche psichiatriche in altri casi per riuscire ad avere qualche chance in più di guarigione cioè le due cose possono stare insieme non ha senso dire ah ma è colpa della società quindi o la società cambia o io inevitabilmente devo continuare a stare male no perché una persona nonostante la società difficile folle malata può anche imparare può anche imparare a vivere in questo mondo brutto semplifico senza diventare dipende la sostanza o senza andare in depressione se accade e non è assolutamente giudicabile non è mica una colpa può accadere sono assolutamente convinto anch'io che una società come la nostra senza esaltare società passate persino peggiori possa proprio incentivare il malessere dell'individuo ma ove ciò accadesse non capisco perché sarebbe un male provare a far star miglio il singolo individuo perché è possibile nonostante la società per molti versi brutta altrimenti si diventa passivi sbaglia chi dà un'estrema responsabilità ai singoli come se la società non influisse in nessun modo non concepiscono la mentalità di quel tipo molti parlano come se davvero ognuno scegliesse tutto addirittura uno scegliesse anche di essere depresso ah ma tu sei depresso perché lo vuoi essere potresti scegliere di non essere depresso questi automatismi ridicoli no questa totale de responsabilizzazione della società del contesto dell'ambiente dei genitori molti che dicono e basta con sta storia ho sentito questo ultimamente basta con sta storia che tutte le cose o quasi tutte sono responsabile dei genitori non è vero come come si fa a negare una realtà di questo tipo il contesto con te come quindi io abborro quella visione ma non va bene nemmeno dall'altro lato dire siccome i genitori sono quelli sono stati quelli siccome la società è così effettivamente è molto negativa effettivamente i genitori sono stati molti negativi allora io inevitabilmente non posso altro che non posso fare altro che stare male in attesa che eventualmente il mondo cambi ma no perché il mondo è quello che è i genitori sono quello che sono oppure gli effetti di quello che l'ambiente familiare è stato non può cambiare è già avvenuto quello che è stato il tuo percorso di crescita la tua infanzia è già passata e ha formato la tua identità quindi quello che dobbiamo fare è nonostante consci dell'influenza dell'ambiente della società cercare di prenderci cura di noi stessi senza guardare solo l'esterno è colpa dell'esterno io non posso fare nulla no si chiama passività e questa passività è assolutamente condannabile uno può lavorare con se stesso senza lo psicologo assolutamente è un amico obbligatorio senza lo psichiatra dipende dal tipo di malessere in certi casi se non ci si riesce esiste anche lo psicologo esiste anche lo psichiatra che non risolve niente ti offre semplicemente gli strumenti in più cioè quello che un essere umano deve fare è nel contesto in cui si trova nelle difficoltà in cui si trova figli anche di influenze esterne molto negative che sono il primo a vedere cosa deve fare un individuo cercare di trovare una modalità per riuscire a vivere più serenamente nonostante il contesto sociale non favorevole o la propria identità ferita da situazioni passate se parliamo di famiglie quindi riuscire a fare questo e si può fare gradualmente senza fretta partendo dall'accettazione in certi casi nei casi di più profondo disagio esiste anche l'aiuto dello psicologo che ripeto non è un mago ti da solo degli strumenti in più per dirti guarda potresti risolvere questa problematica in questo modo ma sei tu che comunque anche in quel caso che devi intraprendere un percorso perché anche lì non è che tu vai nelle mani del guru o dello psicologo o dello psichiatra che ti salva lui ti può dare degli strumenti ma non può salvarti quindi è importante capire perché altrimenti ok io sono in questa condizione tutta colpa della società io non posso fare niente ed è sbagliato ma non è che deve diventare ok colpa della società io non posso fare niente a meno che non c'è lo psicologo che mi salva non è anche lo psicologo non puoi derogare a qualcun altro il riuscire a trovare il modo di vivere in questo mondo puoi chiedere l'aiuto di chi ti offre degli strumenti e poi però sei tu che devi cercare di ritornare a galla io vi esorto a fare questo la società è uscena il mio canale si basa tantissimo su questo sono qua a descrivere le uscentali questa nostra società dal sistema educativo dai valori dominanti dalle famiglie che si preoccupano di tutto della felicità del figlio perché non sanno cosa sia in primis loro la felicità ha preso atto di tutto ciò poi non dobbiamo vivere puntando il dito e rimanere immobili dobbiamo cercare di provarci poi non sappiamo quello che sarà il risultato ma provarci smettendola di guardare solo l'esterno e dire tutto colpa della società certo che società è così non deve essere negato sbaglia chi nega le responsabilità di una società che comunque dovrebbe sarebbe auspicabile cambiare ma il singolo non può fare altro che provare a ritrovarla una felicità nonostante il mondo e nonostante la vita è l'unica cosa che ha senso fare se si continua a puntare il dito e a dire no è la società no società no società tu puoi continuare a dirlo ma in che modo ti aiuta questo iniziamo a fare cose che ci possono aiutare davvero ed è possibile non facile ma possibile punto ragazzi se vi è piaciuto questo video pollice in su mi raccomando un pollice proprio ora prima di chiudere pollicino dai condividete se vi va potete anche donare o abbonarvi